Abbiamo fatto questa lettera perché abbiamo saputo che il presidente Vendola giorno 11 è andato in pista. Ha elogiato la pista di Nardò, ma di tutti questi elogi però non ha fatto nessuna menzione per quanto ci riguarda. Hanno preso carta e penna per scrivere una lettera al presidente Vendola e manifestare tutta la propria amarezza per un'avvertenza che si trascina da anni, senza spiragli, e che rischia di finire senza un nulla di fatto per i 15 ex collaudatori della pista di Nardò, la prototipo di recente venduta al gruppo Posh, a complicare ulteriormente la posizione dei lavoratori. Con la Copat, la nuova cooperativa subentrante alle due precedenti, Italian Job e Old Service, che proposta ad essere il braccio operativo della pista per i picchi di lavorazione, avrebbe invece ricevuto in affidamento solo pochissime lavorazioni, vanificando così la possibilità di una chiamata per i lavoratori, potendone assumere solo saltuariamente un paio, con tutti gli altri a ricevere invece agli inizi di giugno le lettere di licenziamento al termine della scadenza dei due anni di ammortizzatori sociali in deroga. Il tutto, mentre accusano i lavoratori, il lavoro in pista sarebbe invece tanto con le unità in servizio e non riuscire a soddisfare le esigenze lavorative. Da qui la richiesta di un incontro immediato col governatore di Puglia nella speranza che possa avvenire già a partire dal prossimo 25 giugno, quando la vertenza approderà sul tavolo della task force regionale. L'unico nostro scopo adesso è rientrare al lavoro. Un lavoro che lo chiediamo è un nostro diritto, perché noi in quella pista di Nardò abbiamo dato tanto e l'abbiamo fatto crescere con i nostri sacrifici anche come azienda.